Uno spettacolo teatrale a liceo Darwin di Rivoli per raccontare la crisi globale che ha investito il pianeta. L'iniziativa organizzata dalle associazioni Libertà e Giustizia e Pop Economics e sostenuta dal Comitato Resistenza e Costituzione ha rappresentato gli eventi economici degli ultimi decenni, dalla bolla dei titoli tecnologici di fine anni 90 al fallimento Lehman Brothers, dalla crisi dei debiti sovrani al ruolo delle banche nell'area euro. Al termine dello spettacolo studenti e insegnanti hanno approfondito i temi trattati in gruppi di lavoro.